Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arviete, sappiate cogliere al volo tutte le nuove occasioni. Toro, potreste fare un incontro speciale e proseguire la giornata all'insegna del buon umore. Gemelli, emozioni nuove in arrivo, finalmente per voi arriva la primavera. Cancro, sarete distratti da molte cose che alla fine in realtà non vi interesserebbero. Leone, favoritissimi contatti con gli amici, nuove conoscenze interessanti. Vergine, sarete capaci di fare molte cose. Bilancia, giove in serata potrebbe regalarvi dei momenti di intensa soddisfazione. Scorpione, se avete qualcosa da chiarire con qualcuno potreste pensare di fare voi il primo passo. Sagittario, attimi di tristezza vi assorbiranno. Capricorno, giove e mercurio in buon aspetto, sapranno regalarvi emozioni nuove. Acquario, non potete fare affidamento su persone poco serie, siate più selettivi. Pesci, quella che vi aggiungete a vivere oggi è una fase particolarmente delicata. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie.